Che cosa si aspetta al Comune di San Giuseppe Vesuviano dal Piano? Il Comune di San Giuseppe Vesuviano si aspetta la possibilità di dare un'opportunità al territorio. In effetti sono sicura che la sinergia tra le diverse istituzioni ci permetterà di realizzare questo obiettivo. Qual è il contributo che l'amministrazione si sente di poter dare alla stesura del Piano? Sicuramente la nostra attenzione sarà data verso le strutture sia scolastiche, perché in effetti il nostro territorio necessita di un intervento sotto questo punto di vista, e anche una migliorabilità del territorio attraverso anche la riqualificazione di strade e piazze del nostro Comune. Quindi strade e piazze, ma avete individuato uno o due obiettivi che intendete raggiungere attraverso il Piano? A dir la verità ne abbiamo presentati circa 13, in effetti siamo arrivati qua ricchi di aspettative e sono sicura che in effetti avremo una risposta sicura e celere sotto questo punto di vista. Vuole indicare qualcuno di questi progetti che avete presentato? La riqualificazione dell'istituto Ceschelli, il miglioramento del nostro palazzetto sportivo in modo tale da poter renderlo anche ai nostri studenti del territorio, riqualificazione sia della piazza Elena d'Aosta che della piazza antistante al Comune e anche il miglioramento del campo sportivo, ecco, la riqualificazione e non miglioramento del campo sportivo di San Giuseppe Vesuviano.